pendolino 20 anni di dolore commemorate le otto vittime del deragliamento dell'etr 500 avvenuto il 12 gennaio 1997 alla stazione di piacenza lo strazio dei familiari presenti allerta per neve gelo e vento ancora maltempo sul piacentino domani sono attese precipitazioni anche a carattere nevoso con pericolo ghiaccio sulle strade l'influenza mette ko i donatori di sangue a piacenza situazione sotto controllo ma il centro regionale di bologna ha chiesto aiuto alla nostra città romero è del piacenza è arrivata l'attesa fumata bianca per il centro avanti della feralpi salò sabato potrebbe essere in campo nell'amichevole contro il modena lpr l'impresa vale la final four coppa italia i biancorossi hanno sconfitto perugia al tie break al termine di una prepotente rimonta semifinale il 28 gennaio a bologna